Secco no della provincia alla ricerca degli idrocarburi in Irpinia. L'aula di Palazzo Caracciolo ha sottoscritto all'unanimità un documento nel quale si esprime la netta contrarietà al rischio tribellazione nel comune di Gesualdo. Il caso è stato discusso in consiglio provinciale alla presenza del sindaco Domenico Forgione. Una contrarietà motivata e non ideologica hanno ripetuto i consiglieri. Va difesa la vocazione agricola ed enogastronomica del territorio e il principio della sostenibilità ambientale. Una zona sismica e con il più grande bacino idrografico del mezzogiorno non può permettersi un impianto del genere, peraltro collocato a 300 metri d'aria dal centro abitato. La provincia si schiera così al fianco degli amministratori e della società civile, più volte scesa in piazza per dire no alle trivelle. Dal sindaco di Gesualdo è giunta la proposta di mettere in piedi un pool di esperti coordinati dalla provincia affinché produca materiale scientifico con l'obiettivo di scongiurare quella che per l'Irpinia sarebbe una sciagura. Che si stili un documento va bene, un documento insomma che manifesti la contrarietà rispetto alla questione delle trivellazioni petrolifere ma cercare di mettere su da parte della provincia che è un ente che in ogni caso rappresenta tutti i territori ovviamente della provincia di Avellino come ente pur di secondo livello ma è comunque un ente rappresentativo dell'intero territorio di mettere su un pool di esperti che possano sostenere e il comune di Gesualdo in questa diciamo così in questa battaglia che non è una battaglia di principio ma è una battaglia che ha un senso vero rispetto a quella che è la vocazione del nostro territorio di mettere su un pool di esperti che possano sostenere i comuni dove c'è questa non apprezzabile volontà e da parte del governo e spero che questa cosa venga manifestata una certa contrarietà da parte della regione e quindi si ponga la parola fine a questa vicenda delle trivellazioni petrolifere. Abbiamo ascoltato gli interventi di tutti i gruppi politici presenti in consiglio provinciale c'è una coerenza che comincia nel 2012 da quando si cominciò ad affacciare la possibilità che Italmin nel Gesualdo in modo particolare cominciasse queste trivellazioni queste perforazioni ripeto da allora abbiamo sempre avuto la stessa linea non hanno nulla a che vedere con l'Irpinia che ha fatto già scelte diverse sia dal punto di vista energetico ha puntato sulle energie alternative sia dal punto di vista delle produzioni quindi essenzialmente ha puntato su un'industria leggera ha puntato su un'agricoltura su un'agroalimentare di qualità e sul paesaggio sul valore del paesaggio che è un valore che speriamo possa avere anche una capacità di rilanciare il turismo e il turismo culturale delle nostre parti.